Bene così, grazie Andrea Ricciardi e passiamo alla seconda relatrice, Maria Luisa Righi, la corrispondenza con Gramsci. Grazie Silvio, grazie alla Fondazione e grazie per avermi sollecitato a misurarmi con queste lettere che pensavo di conoscere. Non fosse altro per aver collaborato all'ultima edizione delle lettere da carcere che ha curato Francesco Giasi per Einaudi. In realtà avere comunque il fuoco su Gramsci per pubblicarlo inevitabilmente mette in ombra gli interlocutori. Mentre questo è un carteggio molto interessante, troverà sede nell'epistolario di Gramsci dell'edizione nazionale. Ma è strano che queste lettere siano state trascurate perché l'unica che è stata pubblicata è quella che ha citato Pocanzi Ricciardi, che è stata pubblicata in più occasioni, da ultimo credo nell'edizione delle lettere Sellerio in appendice. Invece è una fonte pressoché sconosciuta che io vi vorrei illustrare. È un carteggio che si comincia e si esaurisce tra il 27 e il 28. Sono entrambi due scriventi privati della libertà dal novembre del 26. Gramsci è nel carcere di San Vittore a Milano. Berti è al confino, a Ustica, dove è arrivato dopo che Gramsci era già andato via. E per una parte sarà anche lui in carcere, come vedremo. Come ci racconta Berti, nell'unica testimonianza che ha rilasciato su Gramsci, che è quella già citata a Mima Paolaisu-Guercioli, si erano visti l'ultima volta nel transito del carcere del Lucerdona a Palermo, uno destinato a Pantelleria e Gramsci a Ustica, e fu l'ultima volta che si videro dopodiché la loro relazione fu soltanto epistolare. Dopo quell'incontro, il 20 gennaio, Berti manda una cartolina insieme ad altri confinati, ma la scrive lui con un moto di giovenale, non lascio perdere la citazione, la censura risparmi di Corvi e Tormenta le Colombe, che aveva scritto a Gramsci e Bordiga. È datata 20 gennaio, 27, lo stesso giorno Gramsci viene arrestato a Ustica per essere portata a Milano, e qualcuno corregge l'intestazione e verrà inviata a Gramsci a Milano. E infatti è conservata in archivio. Il 29 marzo Berti fu trasferita a Ustica, con poco tempo dopo lo raggiungerà anche Maria Baroncini con la bambina Vinca, non prima essersi sposati per procura, perché altrimenti non avrebbe avuto diritto. Appena arrivato sull'isola, Berti è inserito nel corpo insegnante della scuola. Ora, come chiunque sa, chi abbia letto le lettere dal carcere, la scuola di Ustica viene organizzata insieme a Bordiga, subito appena erano arrivati. Prima erano soltanto una trentina di confinati, ma già il 2 gennaio del 27 erano una sessantina, diventeranno centinaia. Bordiga dirige la sezione scientifica, io, scrive Gramsci a straffa, la sezione storico-letteraria. Da allievo Gramsci segue anche il corso di tedesco. E lui invece tiene tre lezioni di storia antica relative alle remote civiltà orientali dei Sumeri e degli Ittiti, dirà Mario Lauriti in una testimonianza. Interrotta bruscamente l'esperienza della scuola, Gramsci però da San Vittore vuole seguirla e comincia a scrivere ai compagni confinati. È un carteggio di cui ci rimangono poche cose, alcune lettere che Gramsci riceve, perché quelle le conserva nel suo archivio, molte invece sono quelle andate disperse di quelle che scrive lui. Di una dozzina, lo sappiamo per certo, perché vengono nominate nelle responsive, ma se noi facciamo il calendario del lettere di cui Gramsci ha diritto, che sarebbe in qualità di detenuto inquisito, due lettere a settimana, ci sono addirittura una decina di turni di cui non abbiamo nessuna lettera, neanche ai familiari, vuol dire che sono una ventina di lettere al momento perdute. E poi mancano ben più di una ventina di seconde lettere, cioè abbiamo le lettere ai familiari, dai fogli che abbiamo dovrebbe mancare anche un'altra lettera, probabilmente Augustica, Sraffa, non lo sappiamo. Perché dico questo? Perché come vedremo, le lettere di Gramsci Augustica non hanno un carattere personale, sono rivolte al collettivo dei confinati comunisti e Berti spesso risponde a lettere che non erano a lui destinate, a questioni che erano state sollevate in carteggi con altri. E per questo cerco di prendere l'intera corrispondenza, diciamo Milano-Ustica. Ci sono alcune lettere andate perdute tra febbraio e aprile, ma di cui sappiamo dalle risposte che l'avevano ricevute. C'è un totale buio su maggio. E poi, verso la fine di giugno, sappiamo che arrivò una lettera che è probabilmente una seconda puntata di una schema per la conferenza su Pirandello. La tua lettera è pirindelliforme, gli scrive a un certo punto uno. Berti scrive la prima lettera dopo alcune cartoline, si inserisce in questo carteggio con la lettera che ha appena menzionato. Oltre alla parte autobiografica a cui ha accennato Andrea, c'è anche il tema della scuola. Lui era incaricato del corso di storia della filosofia e di quello di storia e ha una settantina di allievi. Chiede a Gramsci consigli in generale, in particolare suggerimenti di lettura e qualche idea geniale che a Gramsci questa cosa del genio non gli piace. E poi gli dice anche che erano arrivati il professor Parvi del Corriere della Sera e il professor Rosselli del Quarto Stato. Ma per non dare loro l'incomodo di dover accettare il corso di storia, l'ho preso io. Ora, Gramsci, gli chiede se il Parvi ha menzionato sia quello che si era laureato a Torino tre anni prima. Insomma, fa un curriculum perfetto di Ferruccio Parvi ma Berti non si capisce se perché Gramsci sbaglia e lo chiama Francesco o per altri motivi nega che siano la stessa persona. Gramsci aveva suggerito che al molto valente e studioso Parvi gli doveva essere assegnata qualche conferenza sul risorgimento. I confinati gli daranno invece un corso di storia dell'arte. Anche Rosselli viene utilizzato per i suoi libri e per il materiale ma anche a lui non gli vengono assegnati i corsi. Procediamo normalmente così dice Berti a Gramsci io a Medeo facciamo una relazione su un determinato argomento ad esempio Parmenide e quindi si discute mi incarico di vergare il testo definitivo in forma di dispensa e avendo la macchina da scrivere Bordica la macchina da scrivere fanno delle dispense. Te le mando questa cosa cade nel vuoto a noi non ci risulta che siano conservate queste dispense da tiro scritta che sarebbero interessanti. Quando gli risponde Gramsci gli dice non sono in grado di valutare lo sviluppo di questa esperienza sono molto nervoso e irascibile ed è interessante il fatto che non avendo le preoccupazioni delle rassicurazioni ai familiari eccetera in queste lettere con Berti Gramsci si apra molto di più anche ai momenti di sconforto che normalmente non troviamo nel carteggio nelle lettere dal carcere. I massaggi energici ne ha già parlato Andrea e quindi mi esime da tornare ma questo tono scorato di Gramsci delle sue difficoltà colpiscono il giovane Berti che si offre di aiutarlo anche materialmente non abbiamo molti soldi ma insomma qualche disponibilità ce l'ho e usa anche un tono più leggero un po' per stemperare appunto questa angoscia gli ricorda la goliardica sublime accademia del ventricolo da Sinocotto che Gramsci col gruppetto dei torinesi aveva istituito probabilmente era una confidenza di Tasca e lo informa di altri arrivi sull'isola e avanza una critica sul comportamento di Bordiga che a suo dire dopo la partenza di Gramsci e poi di Maffi ad aprile era diventato sempre più isolato bisogna dire che i loro rapporti non erano del tutto tranquilli Berti confiderà agli inizi del 26 probabilmente era un dialogo che si era svolto al sesto plenum del febbraio marzo mi pare Bordiga aveva consigliato a Berti di tornare agli studi abbandonare il lavoro di partito anche perché il gruppo dirigente lo riteneva un fesso questa era una cosa che Berti racconta Togliatti Togliatti la riscrive ma insomma i rapporti erano un po' tesi e si creava una come dire tentativi di disgregazione nel nel gruppo dirigente del centro che si era andato formando Agustica denunciava Berti Bordiga tendeva a isolarsi dal collettivo comunista Amedeo da un certo tempo in qua da quando sono qui fortunato la Camera e Luigi Gilodi e tanti altri suoi vecchi amici bollenti e rumorosi lo vedo meno spesso poi ci saranno altre cose però questa lettera sull'attività frazionistica avrà poi un seguito perché la denuncerà quasi negli stessi termini in una lettera firmata con Menotti e un altro a nome del Comitato Confinati Comunisti di Justica nel marzo del 28 poi ancora in un rapporto del gennaio 30 quando uscirà dall'Italia quindi in una relazione del marzo 30 e taglio tutto rimaniamo a luglio 27 Gramsci scrive una lettera anche questa è andata persa del 25 luglio nella quale si accusano gli insegnanti della scuola di formichierismo le tendenze formicarie durano per un po' probabilmente era relativo a una battuta che aveva fatto Lauriti però per formicarie diventa sinonimo di studio frammentato non sistematico e finalizzato a un programma fondamentalmente li accusa di essere rimasti alla storia antica e di non aver affrontato la questione del risorgimento della storia attuale lo si intuisce dal fatto che Lauriti nel rispondere a botta calda a questa lettera riporta Berti mi hai incaricato di farti la maligna questione perché il tuo corso di storia invece di prendere le mosse dal secolo diciannovesimo cominciava da 3.000 anni avanti Cristo se le ragioni per cui tu hai fatto questa scelta permangono comunque ci siamo messi a studiare il risorgimento l'ora sicura Lauriti quando Gramsci l'8 agosto riscrive a Berti però non torna sulle formicherie fa una lettera in cui parla di psicologia popolare diffusa gli parla dei libri che sta leggendo fa sapere fa un'osservazione sul libro di Nello Rosselli su lacrimonia che gli mette nel suo libro la risposta di Berti del 26 agosto è tutta su formicherismo cioè se non fosse per un'aggiunta in poscrittum sulla risposta di Rosselli su lacrimonia sembrerebbe che l'ultima lettera non l'abbia neanche ricevuta e gli mando una lettera in quattro punti cioè proprio puntualizzando quattro voci a testimonianza di quanto fosse irritato e vabbè e c'è un altro pezzo autobiografico sul passato sul colussismo dalla colì dietro le quinte traduciamo retroscenismo sono sono stato ammalato di retroscenismo che spiega nacque e si sviluppò dal fatto che a 19 anni fu lanciato sulla scena a rappresentare una parte per la quale non avevo capacità che si riallaccia a quel napoletano che dice che diceva nell'altra lettera non penso però taglio tutto che il colussismo abbia fatto capolino nel fatto ultimo ora il fatto ultimo cioè posso che a 19 anni è l'esponente della frazione bordichista astensionista ai congressi giovanili il fatto ultimo io lo leggo come l'accusa che aveva fatto di frazionismo di attività frazionista a bordica perché in un altro punto gli racconta dei problemi della scuola e degli indirizzi diversi tra quelli che lui definisce i manuali e i cerebrali diciamo uno scontro sull'impostazione con bordica non una culisse ma un'opposizione aperta contro il meccanicismo e l'elefantiasi della scuola e soprattutto al fatto che chi avesse voluto anche studiare da sé fuori dalla routine sarebbe stato fatto segno di ingiusti di leggi e sarebbe passato per un intellettualoide uno studio in profondità diveniva impossibile oggetto di dileggio don del mio apologo innocente sulla formica e sull'elefante quindi questo dice tu Gramsci hai un giudizio che è troppo condizionato da ricordi di liaco dei primi tempi la quantità è influita Gramsci non ha ancora ricevuto questa lettera quando gli risponde e anche qui è un'altra lettera di scoramento però le lettere di Gramsci sono più conosciute e io le salto comunque Cesare Marcucci scrive a Gramsci che il corso di Berti è comunque molto interessante non ti preoccupare sebbene tutti rimpiangano le tue lezioni inaugurali i corsi che si stanno facendo adesso ottengono comunque un certo successo però stiamo ancora alla storia di Roma corsi di storia antica anche qui lo scoramento di Gramsci produce una risposta consolatoria più leggera che non riprende i temi polemici in sostanza parla molto bene dell'avvocato Carlo Mauro che è un anziano del 1871 che però ha ancora la passione di un ventenne insomma cerca di alleggerire questa questa atmosfera e diceva qui ci vuole poco per rinfocolare i risentimenti ma adesso tutto è in pace ma è una pace che dopo neanche due settimane viene interrotta dall'irruzione della polizia si crea un un caso insomma conflitti interni ai fascisti che si volevano mostrare i confinati di Ustica vengono accusati di ricostituzione del del partito comunista e vengono operati numerosi arresti tra cui Bordica Berti e altri 57 confinati e una guardia fanno un sacco imbastiscono un processo sequestrano un sacco di materiale che non aveva alcun valore giudiziario che però noi storici apprezziamo perché sequestrano lettere diari poi canzoni rivoluzionarie tutto il materiale della scuola compreso l'elenco della biblioteca e e vengono tutti arrestati e portati a Lucerdone un compagno scrive a Gramsci in cui gli spiega che li hanno arrestati ma niente di più si trovano in carcere tant'è che poi la conversazione continua 10 minuti si è arrivato a 20 ok allora la conversazione continua anche quando Berti è nel carcere a Palermo prima con informazioni più pratiche eccetera eccetera ma volevo sottolineare ci sono alcune le non avendo più rapporti con gli altri detenuti la conversazione inevitabilmente si sposta su le letture e i programmi di studio di Berti e sarebbe molto interessante illustrare le letture la sua biblioteca del carcere non è molto fornita lui viene gli vengono prestate le opere dal cappellano così legge Ardigon Maritain e poi Proudhon anche lui dice mi sono messa a razzolare nei letamai cercando di studiare la letteratura minore nel suo caso un libro di scuola elementare e così via e poi ho detto sono tutte molto interessanti l'ultimo scambio di lettere Berti scrive da Palermo il 7 maggio rispondendo a una lettera di Gramsci che non c'è in cui però lui rispondendo mette tra virgolette il quesito che gli aveva posto Gramsci perché mai in Sicilia a differenza delle altre regioni ci sono più protestanti eccetera eccetera Berti si dichiara non ben informato in realtà scrive proprio un piccolo saggio sulla storia dei riformati nell'ottocento in relazione alla crisi politica e religiosa e religiosa non ve la posso illustrare ma insomma è veramente molto interessante anche lunga per esempio ci sono delle cose interessanti in questo carteggio a un certo punto parlando di Proudhon Berti dice come tu dici il gallicismo operaio di Proudhon questa è un'espressione che si ritrova in scritti di Gramsci soltanto nel 30 nel quaderno 7 però evidentemente era un concetto che era stato elaborato e espresso anche prima perché Berti lo attribuisce a Gramsci e questo scambio sulla questione religiosa non potrà avere seguito perché il 4 giugno giunse la sentenza del tribunale speciale che lo condannò a 20 anni e in qualità di condannato non potrà più scrivere a persone che non fossero i consanguinei i parenti e mentre Berti nel 29 poi nonostante sia sottoposta a libertà vigilata riuscirà a espatriare e arrivare a Parigi e non avranno più modo di parlarsi grazie